Parliamo di risultati. Quando uno si approccia ai social, le prime domande che si fa sono quando avrò i primi clienti nuovi, quando arriveranno i primi risultati, quando è che divento autorevole nella mia zona, con un po' di presunzione, come se in realtà questa macchina produca soldi che sono i social, fosse stata libera, tranquilla e adesso me la prendo anch'io e sparo soldi. Non è così. Ci vuole tempo, sudore, pazienza, momenti di servirà, non servirà, boh non sto avendo risultati. È così che funziona, è così che chi ha risultati sta lì costante, persevera e poi cominciano ad arrivare risultati e tu che non ce la fai più, che dopo un mese vuoi risultati, che è come se questa roba fosse veramente il tocco magico, la bacchetta magica e tu non l'hai usata prima perché non ce l'avevi voglia? Ma di che stiamo parlando? Cioè diventare autorevoli, conosciuti nel proprio territorio. Una volta ci volevano vent'anni, una generazione intera, se non due. Oggi magari ci vuole un anno o due, eh ma eh ma ui ah. Rimani lì nel tuo angolino, poverino, pubblicare le tue fotine, con la musichetta sotto, rimani lì pensando anche, oh che mi ha portato dei clienti, sui social mi vedono, ma cosa vedono? Cosa vedono? Quella roba, quella schifezza lì. Quanta pazienza che bisogna avere. Bravo, invece tu che fai video con costanza, con pazienza, senza cercare troppo il risultato, perché il risultato arriva, quando meno te lo aspetti, l'importante che tu abbia costanza e pazienza. Se no non mi scrivere nemmeno, non mi chiamare, non ho voglia di perdere tempo. Io il tempo non lo voglio perdere, ok? E non voglio far perdere neanche tempo a te. Se no sei pronto per i social, non starci sui social, vai a ballare.